Adesso, Paul D'Allai ha un secondo per dire una cosa, perché dopo dobbiamo chiudere in bellezza con una grande cosa. No, no, chiudiamo in bellezza, ho detto, non con te, scusami, tu non chiudi. Adesso tu dici una battuta sul tuo libro, su quelle tue ricerche, intanto io ringrazio il comune di San Secondo Parmese per il patrocinio, l'organizzazione e l'associazione Corte dei Rossi, che è questa ragazza che ha parlato prima, la vicepresidente. Quindi un applauso anche a questa associazione Corte dei Rossi. Adesso per Luigi Paul D'Allai ha un secondo, via il cronometro, basta, finito, finito, basta, finito. Adesso che ce l'ho in mano non mollerò più. No, diventa difficile parlare in situazioni come queste, anche perché forse mi ritengo, diciamo, rispetto a tutti voi una persona fortunata. È difficile sentire tutte queste cose senza sentire suonare le campane. E niente, invece io ho avuto la fortuna di sentirlo e appunto neppure il rintocco del campanone si è sentito. Niente, io volevo ringraziare, insomma, tutti questi signori qui attorno al tavolo per gli elogi che hanno intessuto, non so se poi domani manterranno ancora tutte queste loro convinzioni. Ringrazio in particolare tutti voi che siete intervenuti numerosi, insomma sono anche abbastanza commosso. Il libro l'ho scritto, ci ho lavorato su, però se è bello, il libro è bello, sì, per merito di Antonio Battei, sappiamo, la casa editrice lavora già dal 1872, è una data quasi che mi suona nell'orecchio, nel 1873 nasceva mio nanno, tra l'altro qui ho qualche parente illustre, uno dei quali proviene dalla vicina Colorno, Colorno, colorno col quale i San Secondini ovviamente hanno sempre qualche problemino da regolare, ma queste sono cose nostre, insomma, che non è giusto che si dicano l'abbiamo con i parmigiani, sì, l'abbiamo con i parmigiani perché a Parma appunto c'erano i Farnese e probabilmente il vecchio Piermarie di cui io non voglio assolutamente parlare, praticamente aveva già lui prefigurato il suo stato autonomo rossiano, ma di queste cose non voglio parlare, voglio parlare di altri che assieme al sottoscritto, assieme ovviamente all'editore, hanno contribuito a rendere bello il libro. Un applauso penso per Vincenzo Reibazzi, di cui si ammirano molte fotografie appunto nel libro e che anche questa sera riprende perché è giusto che vengono fatte riprese. Tra le altre fotografie, alcune significative, anche sembrerà strano, le fotografie di una studentessa giapponese, Yumiko Mokizuki, che venne dal Giappone a studiare qui a Rocca San Secondo per una tesi appunto sugli apparati pittorici gonzageschi e paragonzageschi. Poi credo ci sia una foto anche del nostro quasi concittadino, adesso abita e lavora in quel di Soragna, Paolo Geppri, ci sono delle foto dell'archivio del Paglio delle Contrade, lì purtroppo non sono riuscito ad attribuire le paternità, ho messo semplicemente archivio Paglio delle Contrade, più anche il Luca Monducci, credo che sia della tua casa editrice, bellissime foto, una l'avevo presa per quella di Gaibazzi, invece no, Gaibazzi non me l'ha mai data questa, è un disgraziato, invece no, era tua, quindi vabbè, onore al merito. Un'ultimissima roba, io penso di aver fatto una guida, ecco più che un libro, un trattato scientifico, anche perché, lo ripeto, io non sono diciamo uno studioso di professione, sono un dilettante, pure la brutta dilettante, meglio dire dilettante alla francese, un amateur, e si dice così anche in geletto parmigiano, e forse più ancora a San Secondino, addirittura quando uno vuole camperare qualche cosa, e magari chi la vende vuole alzare il prezzo, come fa l'editore anche qua, dice Bercatar Lamadur, qui penso che ne troverai tanti per tua fortuna. Niente, due cosettine finali e poi le chiudo, anche qualche aneddoto si trovano nelle antiche carte, per esempio un tempo, oltre a taccagnare con quelli di Parma e di Colorno, i San Secondini avevano litigato con quelli, tra virgolette, di fontanellate, poi dopo leggendo andrete a trovare dentro. E un altro piccolo particolare, si parla tanto dell'animosità e focosità dei San Secondini, forse questo deriva dallo stesso Giovanni De Medici, Giovanni delle Bande Nere, che proprio qui, da questo castello, licenziava il proprio fattore, perché, diceva Giovanni, chi mangia del mio pane non può uscire dalla mia volontà, perché così voglio e bisogna. Ai San Secondini questa animosità è rimasta, e penso che forse sia ancora uno dei pochi vanti che possono così esibire anche a quelli che vengono da Parma. Bravo, bravo.